VapoSprint il bastone a vapore completo compatto e senza tubi VapoSprint è un angelo un angelo sì per la completa pulizia della casa un angelo su pavimenti e moquette un angelo su vetri e specchi un angelo su piastrelle e pareti laccate e su tutto quello che vuoi tu VapoSprint lo stretto indispensabile che a lavoro finito occupa lo spazio di una scopa è un brevetto Elbat